Il piano dei Pesigallo, titolo vacante, per cui ci sarà anche quello. Intanto invitiamo su un quadrato l'arbitro Enrico Terlizzi. Da cesanatico, Pio Antonio Natuno. All'arbitro, da cesanatico, Pio Antonio Natuno. All'angolo rosso, dentro interamente, viene da Firenze, Gian Pietro Marciano. Di mandare l'imno di Mameli. All'angolo rosso, dentro interamente, viene da Firenze, Gian Pietro Marciano. Un bel applauso al bellissimo lino nazionale italiano. Fuori i secondi. Ancolo rosso e... E' l'inizio della prima ripresa, campionato italiano dei Pesigalli. Il titolo, vacante. La prima ripresa,Antinio Orsi, Balambucano. Il titolo, luxo e Vicino. La prima ripresa, campionato italiano dei Pesigalli. Nel走ro, la prima ripresa, compresa la? Grazie. 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 Rumpo. Eserco. Forza parte la gamba. Eccolo. Eccolo. Maestro a destra. Maestro a destra. Maestro a destra. Rumpo. Maestro a destra. Voi le gambe. Non ti metterò cambiare ora. Viglio. Viglio. Non ti bussare. Rumpo. Eccolo a destra. 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 Passati. I dati. I dati. Eccolo a destra. I dati. I acciutati. Iscola. Un saluto. Eccolo. Eccolo. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Pari.